Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Soul Seraph, un gioco abbastanza particolare perché mix insieme almeno tre generi, i tower defense, i action a scorrimento orizzontale di combattimento, sullo stile Sultan, Sentry e simili, e i gestionali strategici. Lo andiamo a vedere, ho iniziato già una partita. Noi siamo una sorta di protettore dell'umanità, una sorta di angelo, diciamo. Questa è la mappa di gioco, vedete, noi adesso stiamo volando. Soul Seraph mi fa venire in mente Seraph un angelo. Questo è il mondo di gioco, poi pian piano andremo ad allargarci, ci sono due zone, una lì e una qua, in cui possiamo cominciare. Poi in realtà la mappa va ancora avanti, si espande, magari troviamo anche un'altra zona giocabile, eccola lì, infatti. In che cosa consiste? Allora, noi siamo già in una fase avanzata, tra virgolette, perché ho fatto una mezz'ora. Entriamo nella zona in cui ho giocato finora. Il gioco funziona in questo modo, noi abbiamo appena conquistato questa zona, no? Eh sì. E abbiamo delle ondate a cui resistere. E grazie al nostro angelo, cioè siamo noi, qua abbiamo il nostro villaggio. Il villaggio consiste nella produzione di cibo, quindi la costruzione di nuovi edifici. Cioè in pratica possiamo costruire l'orto per produrre il cibo, vedete che qua stanno lavorando. Possiamo costruire le zone di difesa, le torri di difesa, oltre che la capanna del cacciatore del taglialenia, scusate, dove possiamo recuperare il legname, perché in alto a destra vediamo il numero di cittadini, il numero di cibo e il legname e i poteri. I poteri che andiamo a spendere. In alto a sinistra vedete la vita nostra e l'energia nostra. In questo caso stanno avanzando dei nemici, ma qua non abbiamo nulla. Ma per mostrarvi esattamente in che cosa consiste il gioco, io comincio una nuova partita, così vi faccio vedere anche com'è l'inizio. C'è tutta l'introduzione in cui viene spiegato che gli dei creano il mondo, creano gli umani e gli dei poi si divertono a dargli fastidio. La storia è narrata un po' come, diciamo, dagli umani stessi. C'è un nonno, diciamo, di fronte al falò che racconta ai bambini questa storia. Il gioco inizia con questa modalità qui. Questa modalità qui non è esente da difetti, perché tante volte c'è, diciamo, qualche problema a mirare il nemico. Infatti quando noi stiamo colpendo c'è qualche problemino a muoverci. Abbiamo qualche problemino a muoverci, non mi vengono le parole. Col tasto destro spariamo le frecce, che sono ovviamente limitate. In alto a sinistra abbiamo la vita. Ogni colpo che riceviamo perdiamo un tassellino, ne abbiamo già persi tre. E questa è la fase, diciamo, shooter a scorrimento orizzontale. La stessa fase l'affronteremo nel momento in cui raggiungeremo, conquistando i territori, uno spawner di ondate malvagie. In quel caso il gioco inizierà con questa fase qui, dove dovremo battere tutti i nemici, e a quel punto lo spawner di monstri sarà stato battuto. Ho avuto non poche difficoltà, perché non è semplice, non è affatto semplice. Però adesso ce l'abbiamo fatta. Oh cacchio, c'è il doppio salto, ma ovviamente adesso ormai è persa la zona. Si può andare anche sott'acqua, perché... Vabbè, adesso procediamo già sott'acqua, perché so già che sopra non ci saranno... Non c'è niente, è chiuso. E vedete, la difficoltà sta proprio nel mirare... Quando stiamo colpendo, perché non ci fa cambiare bersaglio. Abbiamo solo due di vita, abbiamo anche una medusa gigante che ci sta inseguendo, quindi dobbiamo essere pronti, essere girati nella posizione giusta per poter colpire. È un po' legnoso, niente che non si possa migliorare poi con qualche patch futura. Intanto io vado qua sotto perché devo recuperare la vita. Ok. Adesso poi andremo a vedere il tutorial all'iniziale. Cioè, graficamente non è neanche male. Questo è un save, dove possiamo ripartire nel caso in cui dovessimo morire, cosa che accadrà a breve. Intanto i mostri stanno arrivando. Questo, benché io non ami i... Non ami i Tower Defense, non lo trovo affatto male come gioco. Anche se, secondo me, non è per tutti. È un gioco che comunque richiede strategia e alla fine quello di cui mi rendo conto è che i Tower Defense alla fine sono degli enormi puzzle game. Allora, la cosa che mi ha sorpreso, vabbè, è in italiano il gioco. C'è da dire anche che il publisher è SIGA, quindi ha un grande publisher dietro. Se la domanda è uscirà, è uscito per console, non ve lo so dire perché non ho guardato, ma è possibile perché essendoci SIGA dietro è possibile che... Allora, schiva con il left shifter, vedete, e con il control, adesso non ho ancora sbloccato la mossa, possiamo... Ah no, con F, scusate, possiamo fare questa schivata. Comunque lo scudone è utile perché adesso c'è lo sconto col boss. Io adesso ne approfitto, uso tutto il mana che ho per attaccarlo, in questo modo. Non è neanche fortissimo, infatti l'ho battuto, ho guadagnato più uno, salute. Che mi ricorda un pochino il portacuori di Zelda, in pratica abbiamo un tondino in più, uno vale in più in alto a sinistra per la vita. A questo punto inizia il gioco. In pratica abbiamo la zona iniziale. Allora, ci si muove. Sento qualcosa che mi chiama Danoord, vedete che si vola, si va qui e qua inizia la storia. Vedete, la storia è disegnata, mi ricordo anche The Banner Saga, come disegni. Vi salto la storia, in pratica è lui che chiede, sta aspettando la minestra davanti al falò. E ora ci spiega come costruire. Con la Q si può costruire, infatti andiamo a costruire una casa. La casa la potete piazzare così, vedete che si va a piazzare una casa e una casa ci dà quattro abitanti. Ne piazziamo un'altra. Degli alberi possa... Sì, è tutto basato su una divinità, ogni cosa che succede nel mondo è una divinità. Devo usare i miei poteri, dobbiamo rendere fertile il terreno. Quindi iniziamo a fertilizzare dando pioggia. Vedete che il terreno diventa verde. E possiamo far crescere vegetazione, alberi e così via. Costruisci una fattoria sul terreno fertile. Quindi a questo punto andiamo a costruire una fattoria e la mettiamo qui. Vedete che in breve viene costruito. Ora assegna agli abitanti la tua fattoria. Quindi andando qua sopra, cliccando con il tasto sinistro, degli 8, dei 10 scusate, perché ho fatto due fattorie da 5 e 1, 1. 5 abitanti l'una. Cliccando col sinistro assegniamo un abitante. Espandi i confini di costruzione costruendo una strada in direzione degli alberi. Ok, andiamo. Col tasto Q selezioniamo la strada e quindi costruiamo una strada che va qua. Quelle parti da qui, che ho sbagliato. Sì, direi che per console potrebbe anche esistere, calcolando quanto è ostico nei controlli con il mouse. Perché qua è proprio palesemente richiesta un pad. Costruisce una segaria vicino. Ho fatto una strada, però è una strada un po' di murder. Vediamo se riesco a piazzarla meglio. Perché in pratica la strada non puoi costruire qui. Vabbè, costruisco qui. No, ma si può comunque creare... Vabbè, ho fatto la strada più o meno, a circa circa. Costruiamo una segaria. Quindi una segaria va e ci scava. Scava. Ci taglia gli alberi in quest'arco qua. La Natura Tower Defense. La vedremo a brevissimo. Io adesso affido tre lavoratori. Quindi vedete che per i non vanno. La Natura Tower Defense è questa. I nemici partono da delle zone limitrofene. Tra cui qua. Vedete che c'è il teschio. Nonno, presto chiudo il capanno. Arrivano i risultati. Lui dice la collera degli dei, degli alberi. Mi hanno iniziato a battere gli alberi. E vedete che sotto parte il counter dell'ondata. Quindi a questo punto andiamo e costruiamo strutture difensive. Però non me lo fa fare. Perché? Perché dobbiamo correre tra le nubi. Costruisce una caserma. Dove assegnare... Ok. Facciamo la caserma. Eccola qua. La caserma è importante. Il gioco non ci spiega chiaramente come dobbiamo fare. Ma poi lo apprendiamo. La mettiamo qui. Ci assegniamo degli abitanti. Tre. E questi difenderanno tutti quelli che entreranno in questa zona. I mostri tendenzialmente seguono la strada. Quindi siamo protetti. Ne facciamo magari un'altra. Perché il loro scopo è venire a distruggere il falò. Quindi no, non possiamo farne altre. Quindi dobbiamo per forza iniziare l'ondata. Quindi adesso noi passando tra le nuvole ricarichiamo quella barra sotto che ci dà diritto di lanciare i poteri che non abbiamo ancora. Oltre a fertilizzare come abbiamo visto il terreno possiamo lanciare fulmine, evocare dei golem. In pratica aiutare la nostra popolazione. Tasto a zeta avviamo l'ondata. E l'ondata inizia ad arrivare. Vedete che da qua vengono generati dei mostri. Noi poi se ci espandiamo fino a questo territorio qui, così come quello a sud, possiamo andare a combattere con quella modalità che abbiamo visto prima, scorrimento orizzontale, il nemico. E quindi bonificare l'area ed espanderci. L'area è enorme. Questa mappa qui è enorme. Adesso qua non mi lascio andare avanti perché dobbiamo sbloccarla ma in realtà la mappa è enorme. Vedete che in questo caso i cittadini stanno inseguendo i mostri. Loro non fanno più nulla adesso, lo stanno attaccando, fortunatamente colpendo il cuore, che ha una vita abbastanza ridotta all'inizio, si dissolvono. Devi costruire torri degli aceri per attaccare i nemici volanti. Assegna la torre, ok, facciamo la torre. A breve poi il gioco ci darà libertà piena di costruzione. Torre degli aceri, la facciamo lì, la facciamo anche qui. Oltre che magari fare... Ok, qua gli assegniamo un abitante, due abitanti e qua non ne abbiamo uno solo da assegnare. Quindi dobbiamo costruire nuove case. Ovviamente deve bastare anche il cibo perché è richiesto anche il cibo e bisogna calcolare anche che gli alberi finiscono. Quindi vediamo se riusciamo a fertilizzare un pochino con la pioggia l'ambiente qui. Quindi magari riusciamo a far ricrescere dei... Tanto il potere nostro finisce ma si ricarica passando in mezzo alle nuvole, quindi... Ok, abbiamo tanto legname, quindi facciamo un'altra casa. Le case le mettiamo magari un po' più isolate perché non gliene frega niente ai mostri delle case ma vogliono distruggere il falò. E spezziamo un'altra caserma e la mettiamo qui che è in protezione al villaggio. Qua, quelli che arrivano anche da sud. Vedete che intanto stanno attaccando. In segno tra abitanti qua, vedete che le torri attaccano i nemici volanti. Il cuore del villaggio deve essere salvo. Lo vedete in alto a sinistra, sono cinque cuori, cinque tondini ovali, insomma, come volete. E significa che quando raggiungiamo lo zero perdiamo. Quindi nelle varie ondate dobbiamo distruggere i nemici prima che attacchino cinque volte il fuoco. Il gioco non mi lascia andare avanti. Vedete qua c'è un'altra zona. Dobbiamo andare a costruire un tempio, ce lo far fare a breve, per poter scoprire quella zona e quindi andare a distruggerla. Questi mostri non possono essere spuntati da nulla, solo padre, cielo, madre e terra potranno far scotturire la materia. Ok, quindi dobbiamo costruire. È arrivato adesso forse il momento di costruire il tempio per dissipare la nebbia oscura. Dovete ottenere più energia sconfiggendo altri mostri. Possiamo fare il tempio, vedete, il tempio lo piazziamo. Non me lo fa piazzare perché è vicino alle nubi oscure, sì, infatti, dobbiamo metterlo qui. Ma non me lo fa fare perché ovviamente i confini cittadini devono essere vicini. Quindi facciamo una cosa, piazziamo, mannaggia. Questo fa per far passare il tempo sbagliato strutture difensive. Una è vicino al villaggio, qua. Ok. E adesso facciamo anche una casa. Strutture base, facciamo una casa, la mettiamo qui. No, non me la fa fare. Qua. E gli assegniamo tre cittadini. Penso che forse con la strada si possa espandere il terreno. Ok, infatti, me la fa fare fino qui. Sì, sì, infatti, possiamo espandere sempre di più la nostra strada. Intanto l'ondata è partita, quindi stanno già attaccando, si stanno difendendo, insomma. Ok, adesso credo che il tempio lo si possa creare qui, infatti. Credo che qua me lo lasci fare. Ok, fatto il tempio, gli assegniamo un cittadino. E a questo punto dissiperemo le nubi. Intanto qua il combattimento non è... Eh, ci hanno attaccato. Questi qua non li attaccano fino a quando non arrivano a portata, quindi rimangono lì di spalle. Come ogni tower defense, è tutto automatizzato. Non gli facciamo nulla, però. Vabbè, abbiamo vinto. Credo, non dovrebbe arrivare nient'altro. Il popolo di questa terra ha affrontato l'oscurità, nebbia si dirà data. Tutto ho raccontato così. Monster arrivo da sud, quindi dobbiamo prepararci. Poi ovviamente possiamo andare qua e attaccare l'antro, cliccandoci e andando ad affrontare il nemico. Non è che io ricordi eccessivamente difficile questo mondo, perché è solo questa zona qua. Sì, io dovessi fare una critica al sistema questo. Questo modo di gioco qui è veramente ostico, mirare, si impara, ovviamente. Però si poteva sicuramente fare di più. È più studiato per il pad, quindi credo che sia proprio un difetto il fatto che sto giocando con la tastiera e non si presta proprio per nulla per essere giocato con la tastiera. Abbiamo vinto, abbiamo aumentato anche il mana massimo e abbiamo battuto il punto qui di spawn dei mostri. Quindi a questo punto qui non spawnerà più mostri, ma i mostri arriveranno da molto più lontano. Ci sono altri tutti intorno, inoltre che ne distruggerai uno, l'area degli alberi si indebolirà sempre di più. Trova e li distruggi di tutti. Ok, ne abbiamo già. No, genererà comunque sempre mostri, però pian piano dovremo avvicinarci alle varie zone e fare i vari templi. No, non sta pensando alla zuppa. Ci avvicineremo sempre di più e vinceremo alla fine distruggendo tutto e demolendo l'area degli alberi. Ovviamente ci spostiamo, il villaggio diventerà sempre più grande e avremo sempre più bisogno di produrre cibo e di trovare zone con la produzione di alberi. Infatti qua non raccolgono più alberi, io vado e demolisco la zona e la vado a ricostruire qui in modo che posso andare a scavare vicino al villaggio, ma non me lo dà valido perché devo fare una strada. In pratica, in sintesi, le meccaniche di gioco sono spiegate adesso, così semplicemente i poteri, vedete, possiamo un fulmine, il sole, un guardiano del sole, accelerare il tempo e rendere fertile la zona ovviamente per farci una piantagione. Questo in sintesi è quello che il gioco offre, quindi questo stile di tower defense, di costruzione strategica degli edifici, diciamo predisposti poi per la meccanica di tower defense. Vedete che adesso arrivano anche da sud, io non mi sono preparato, oltre che le meccaniche di, diciamo, action a piattaforme, platform, ecco il termine giusto è platform, per sconfiggere i vari luoghi. Ovviamente poi con l'esc, no, non possiamo ancora uscire, lo potremo fare più avanti perché poi potremo uscire alla mappa principale come abbiamo visto prima e battere e spostarci in altre zone, magari iniziare varie partite da vari punti della mappa, per poi ricongiungerci una volta che l'avremo conquistato. Non è sicuramente un gioco per tutti, un gioco fatto bene, che deve essere sicuramente rifinito nelle meccaniche platform, ma è discretamente originale e graficamente carino. Quindi in pratica che se siete appassionati di tower defense vi piacciono, vi rilassano. Plant vs. Zombie è stato il vostro gioco preferito per anni. Avete voglia anche di un combattimento platform da padroneggiare. Sol Seraph può essere il gioco che fa per voi. Ovviamente non mancate come al solito di lasciarmi un commento qua sotto, un parere, un consiglio. E alla prossima ragazzi, ciao ciao!